Ben trovati da Tg della mobilità, proseguono domani i lavori di potatura in via Galvani, a Tessaccio, tra via Marmorata e via Frenk, indeviate dalle 7 alle 18, le linee 718, 719, 775, disattivate e 7 fermate. Domani in via dei fori imperiali e isola pedonale per tutto il giorno saranno deviate su percorsi alternativi 5 linee di bus, inoltre sempre domani per il mercato di Porta Portese, stop e mezzi pesanti su un tratto di via Ettore Rolli, saranno deviate le linee 719, 170 e 781. Emergenza sanitaria, misure anti-assembramento, questo fine settimana in caso di effettiva necessità potrebbero chiudere le stazioni metro di Flaminio e Spagna, resta alta l'allerta anti-assembramento nelle strade dello shopping tutta la città, compresi in zone come Trastevere e Leur. È tutto per questa edizione.